La gestione della rocca malatestiana di Cesena ha fatto e sta facendo discutere dopo che il TAR di Bologna ha respinto la richiesta avanzata dall'associazione Aidoru. La società leccese che si era invece aggiudicata il bando non aveva i documenti in regola e l'amministrazione di Cesena aveva chiesto ad Aidoru di prolungare la gestione della rocca. Per questo l'associazione Cesenate ha presentato il ricorso e la prossima udienza è prevista per la fine del mese di marzo. In realtà in questo periodo dell'anno nulla di più si faceva se non le visite guidate. Ci stiamo organizzando perché le visite guidate non vengano interrotte e per attendere, poiché la situazione è abbastanza complessa, marzo il giudizio del TAR in modo che si capisca se la gara come sia conclusa sia stata conclusa nella maniera giusta o se invece vadano fatti altri passaggi. Se la società si riproponesse per una proroga, l'amministrazione valuterebbe questa opzione? Credo che in questa fase con l'assegnazione ad un'altra società sia inopportuna la proroga a chi gestiva prima. Però è chiaro che l'obiettivo è nel giro di pochissimi giorni di riattivare le visite guidate alla Rocca. Non possiamo dimenticare che la Rocca anche grazie al bellissimo lavoro di Aydro nel corso di questi anni è diventato un punto di riferimento ancora più importante.